Ci sono personaggi che di questa città ne fanno il racconto, la storia e lo fanno magari sui libri, chi invece sui muri, chi facendo dei piccoli cartelli. Questi cartelli li avete visti sicuramente, li avete riconosciuti magari nel Fu, ormai, Ponte degli Artisti di Porta Genova o magari ai piedi di quel ponte dove adesso c'è un bellissimo collage fatto di tanti cartelli con tante parole e tante domande. Beh, che dire, è proprio una cartellomania forse questa, no? Sigla. Ebbene, l'ospite di questa sera, l'ospite di oggi, di miei carissimi milanesi, è Carlo Cecro, al secolo, in questo caso cartellomania. Buonasera Carlo e bentornato su Milano News. Grazie Fabio, buonasera a tutti e spero di non essere visto come il minestrone riscaldato. Secondo me per nulla, anzi, posso dirlo che ci sei mancato in questi anni? Mi fa piacere, grazie. Allora, noi ci siamo un po' persi di vista, non stiamo qua a raccontare i nostri decisivi, ma ti raccontiamo un po', nel senso, senza entrare dopo nei dettagli, diciamo la verità, abbiamo un po' litigato io a te a un certo punto, dai, possiamo dire un pochino... Io non ho, non mi sono sentito quelli di gatti, diciamo che non ci siamo trovati... Non ci siamo trovati, bravo. Siamo trovati... Siamo sempre stati, bravo, siamo sempre stati molto sulle stesse frequenze, diciamo, utilizzando un termine tecnico a noi caro, a un certo punto queste frequenze, insomma, è saltata un po' la frequenza. Però, quando, secondo me, due persone sono infame, ma non solo, infatti, la contingenza, come si dice in questi casi, ma più che credo, insomma, quando qualcuno tiene a qualcosa, tirare su un telefono, ammettere la propria colpa, ammettere i propri sbagli, o anche semplicemente gli dicenti, Carlo, ti va di rivederci? Basta e avanza, no? E così è stato, così è stato, è stato un attimo, ed eccoci di nuovo qua. Dopo più di due anni, due anni e mezzo, di nuovo qui a Milano News, a chiacchierare e raccontare una di quelle storie di cui io sono innamorato a Milano, che è quella dei cartelli di cartellomania. Eccoli qua. Questo ne ho tirato su uno a caso, che per me poi va anche malissimo, perché io sono a Stemi, lo sanno tutti, quindi alcolizzasi per me non va bene, ma... Cos'è questo? Bluffasi? Bluffasi. Bluffasi, 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 sì. Fino ai più moderni, o meglio, i più recenti, domandasi. Domandasi è l'ultima delle tue avventure, diciamo, no? Sì, in realtà... C'è sempre stata, no? Sì, in realtà c'è sempre stata, era presente. Il domandasi perché, generico, alle volte quel punto di domanda, alle volte senza, è già un must che c'è da una decina d'anni. ma averlo proprio selezionato, scelto, dopo aver fatto anche dei piccoli esperimenti con le persone... Selezionato e scelto tra quante parole, quindi di quante parole hai fatto, non cartelli, quante parole hai declinato su due cartelli? Declinato il prodotto, magari mai usate, 600. 600 parole. Tra queste domandasi ultimamente, era venuto a galla, era venuto un po' a galla da sola e hai fatto anche un po' di test, dicevi, appunto, no? Che cosa hai fatto? Allora, appunto, avvalendomi del ormai, posso chiamarlo storico, murale, nella sua terza versione, per adesso Fabio non mi sofferma a spiegare, diciamo, la terza versione è l'ultima, quella che avviene sulla paratia, meravigliosa paratia di ferro arrugginito, che è la migliore di tutte le tele esistenti, non la cambierei con altri supporti. Molto milanese, molto cantiere, molto ponte, molto ponte degli artisti, ecco, sulla quale, diciamo, a partire dal 2000 e tra il 2019 ed oggi, forse anche 20, adesso perdonatemi se non ho proprio la più o meno, ho iniziato a ricomporre lo storico murale durato circa otto anni, cioè 2009-2016, che era composto all'inizio da questo formato, l'A4, che ricorda fortissimamente da vicino gli affitti e si cerca, poi ridotto a bigliettino da visita, di dimensioni, e poi ritornato giù dal ponte adesso, appunto, di formato A4 e non mi pento della scelta perché ha funzionato. Sono anche lì sperimentazioni che poi, in cui lentamente, perché sono abbastanza lentopede io, malgrado metto parecchi pedalasi, che piacciono tantissimo a molte persone, perché sono declinabili in tantissime varianti che poi magari... Perché ricordiamo questo, allora, tu crei il cartello, il cartello e la parola, appinto, poi è un occultasi, poi prima andavi oltre, lo compilavi tu, in un certo senso, all'inizio, Fabio. Quindi verità, prezzi di mercato, rivolgersi, Dark Agency SRL, numero 02199666, il numero del diavolo. Poi hai voluto fare di più, hai detto, ma io faccio l'idea del titolo, faccio l'idea del cartello, lo stampo, ma lo do in bianco a qualcuno che possa compilarlo, in un certo senso. È da lì che poi nasce, appunto, poi, il nuovo murale con tanti domandasi rispetto prima, no? Sì, hai detto bene, hai detto bene. A chi è d'accordo, conoscendolo, appunto, di passaggio al murale, al collage, propongo il gioco del domandasi, un vero e proprio gioco che un giorno potrei anche produrre in scartola. Il gioco del domandasi? Il gioco del domandasi, un gioco che immagino conviviale, in questo mio progetto, di produrlo anche con del cartone riciclato, dotando le persone che vogliono giocare di una serie di domandasi, di vari colori, perché anche la domanda ha un colore. Allora, lì c'è uno verde, qui c'è uno lilla, lascia il rosso, tutte le carte disponibili per fotocopiare, no? Allora, propongo, uso un attimo te come cavia, perdonami Fabio, ci incontriamo al murale, io ti dico, vuoi giocare al gioco del domandasi e ti propongo qual è la tua domanda? Questa è la tela, perché diventi anche tu protagonista, arte compartecipata, arte interattiva, ti fornisco il pennarello, il posca e ti dico, ti do un po' di tempo, chiaramente se lo si fa in compagnia puoi pensare anche che ti lascio il tempo tutta la serata. Lì non è possibile, nell'arco anche però di gente che c'è stata 20 minuti ed oltre, ti do la possibilità di fare la tua domanda, diramandola per ora in tre varianti. Ecco, quali sono queste tre varianti che ti sei trovato di fronte? Sì, per ora poi potranno anche... Anzi, c'è qualcuno già che mi ha trovato una quarta e quinta. Allora, partiamo con la banalizzità, ma primo esempio. Domandasi, che ore sono? Rivolgersi Fabio, telefono... Domandasi significa, sottoscrivo la domanda, sottoscrivo la domanda che domanderei. Che domanderei. Ok, domandasi in quel senso. Situazione due, domandasi, ma il ponte è solo un passaggio? Rivolgersi a chi lo usa. Ok, quindi una domanda più a se stesso quasi. Domandasi, ma perché? La domanda del cattivo, eh. La domanda del cattivo. Del cattivo. O della dark agency. Sì, domandasi, perché non riesco a così, a intortare chi vorrei fregare? Rivolgersi il signore del potere. Ok. Siamo generici, eh Fabio? A me piace giocare né per piageria, né per codardia, ma mi piace giocare sull'ironia. Come il movimento a cui ritengo io di appartenere c'è la poesia visiva. Poesia visiva. Ok. Fluxus. 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 Come il Just Boys e tanti altri. Basta guardare il computer e si trova tutta la, lo credo io, poi posso essere anche non condiviso. Divisivo sicuramente qua ce n'è tanto. Di poesia, ovvio se cerchiamo la poesia in rima no, ma se cerchiamo la poesia nel scritto e nel senso più profondo del termine ce n'è come. Perché adesso domandasi, può andare peggio di così? Può sembrare che ci sia poca poesia, ma attenzione, rivolgersi al mago Merlino, telefono 02-123-L. Eccola, ecco la poesia. Che ricorda l'unico castello. Ed ecco la poesia che arriva poi, no? Cioè, è questo, arredasi, cosa qui, cosa che hai messo tu? Arredasi... La tua mente. La tua mente. Cioè, se questa non è poesia, è lì che tu inizi a scatturire. Sempre, comunque, giocando. Questa è una cosa divertente. Giocando, posso... La terza... Ah sì, no, dimmi, dimmi, dimmi. Un domandasi, vuoi lavorare nel mondo dell'arte? Rivolgetevi alla famiglia Mottefrego. Ah, Mottefrego. Mottefrego, la famosissima... Non la conosci? Telefono sull'elenco. Telefono sull'elenco. La terza, invece, versione del Domandasi è... La terza versione del Domandasi è quella che ho detto. È quella del... Come mai non riesco a fregare... Ah, ok, ok, perfetto. Poi ce ne sarebbero altre che sono... Ah, ma c'è anche la versione della richiesta, in un certo senso. Sì, bravissimo. Domandasi un mondo migliore. Domandasi molto migliore, sì. Io poi li fotografo, con il loro permesso, di poter fotografare loro, il... Chi ha scritto... Ho trovato dei gruppi, ho scoperto una cosa che non sapevo. Che ci sono delle ragazze che oscillano tra i 20, diciamo, 18-20 anni, fino ai 40 anche, che sono dei veri e propri gruppi. E si danno anche un nome. Siccome me le hanno scritte... Gruppi di poeti, no? Gruppi di... No, gruppi di... Si sentono unite... Affinità. Dall'affinità. Allora si chiamano... Posso dirlo? Piego, poi lo salutiamo. Le Obarta. Saluto Leobardas. Se mi sono... Si chiamano Leobardas. Obardas. Obardas, ok. Oppure si firmano con le SXX, una cosa del genere, no? Ci sono comunque ancora quelli che sono finora sopravvissuti alle intemperie, agli interventi della gente, perché il murale è in continua evoluzione, alimentandolo io, finché posso, finché potrò, con la cartellonistica. E fin qui, diciamo, è la storia di Carlo Ceccaro, Carlo Ceccaro cartellomania, appunto, e tutto quello che potrà diventare cartellomania in un futuro e Carlo Ceccaro in un futuro. Ma Carlo è anche 60 anni, in quanto è Carlo? 61. Ok, 61 anni di milanesità. 61 anni di milanese, 61 anni che vede questa città. E quindi non posso che chiederti il rapporto che tu hai con questa città. Allora, Fabio, è una domanda veramente... È la domanda. È la tua domanda, sì. È la mia domanda. Io entrerei nella categoria 1. Ti chiederei di darmi tempo per dare una risposta che non sia a pelle. Ma siccome qua adesso tempi televisivi non ce lo concedono, cercherò di dare la risposta meno, più sentita e meno banale possibile. Ho 61 anni, sono nato qui, avendo origini metà lombarde e metà napoletan-calabresi. Però sono nato a Milano e sento una Milano che ho tuttora, a cui tuttora voglio bene. Perché io vorrei in realtà dare una mia mano perché diventasse, scusa, è presuntuoso la città più bella, se non del mondo, d'Italia. Ma non per fare gare con le altre, siamo più belli. Ok. Dare e poter fare... Sì, so che sembra forse una risposta, ma mi scontro con quello che vedo e che trovo. Quindi la domanda è questa, la domanda è questa, allora. Se mutuasse la domanda da un famoso telefilm americano che iniziava chiedendo a tre giornalisti, a tre persone sedute in platea, chiedeva che cosa rende grande l'America, chiedeva, no? E uno di questi diceva, ma io non sono sicuro che l'America sia così grande. L'ho visto, una ragazza. Infatti, inizio di The Newsroom. Ti chiedo, che cosa rende grande Milano, allora? Attualmente, adesso come adesso, stando abbastanza on the road, i rapporti che hai con la gente. I rapporti che hai con la gente. Finora è così. I rapporti che hai con la gente, le piccole cose che non verranno raccontate da nessuna parte, probabilmente a meno che... Basta che vanno qua, ci piace raccontare. Ecco, bravo, ci siamo capiti. Le piccole cose, le... A me piaceva mettere su un re anche una frase strata da... Ho sceso tanto di braccio, di Montale. Gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede, o che ti raccontano. Vedente la poesia dedicata a Drusilla Tansi, no? La mosca. Io potrei sciorinare una serie di cose che non mi piacciono di quello che vedo. Tipo? Tipo, tipo, tipo... Qual è quella che ti dà più fastidio? Adesso mi dà più fastidio che in realtà ci sono troppe conventicole. Conventicole. Ci sono troppe... Percepisco la presenza di troppe... Troppi... D'altronde così. I giri di interessi sono questi. E quindi non ti opporre perché sennò... Andiamo su pesante a farli. Perché sennò... Così è. Sì. Se è profusato così, non è che poi... D'altronde così, d'altronde... Oppure gli parli di un problema... Io lo dico. Io mi sono autodefinito anche Mr. 659. Cittadino che vuole sensibilizzare sul fatto che non c'è solo l'inquinamento, quello ambientale, ma c'è anche l'inquinamento dei rumori. Ok. Esagerati. Perché 659? Perché il codice penale, l'articolo 659, che il disturbo della pubblica quieta... E' un reatto. Su questo si può aprire, ti si apre un mondo. Ma è molto semplice, no Fabio? Se in questo momento entrasse una serie di schiamazzatori generici, anche uno, basta, qui in mezzo, che cosa farebbe Fabio Ranfi? Gli allontanerebbe? Perché stiamo lavorando. Stiamo... Chi ci sta ascoltando non capirebbe nulla. Esatto, ma non è neanche giusto. Quello che di giorno possono darti fastidio, disturbarti a casa tua e va tutto bene. Ma perché? Perché? Cioè non è una cosa corretta secondo me. C'è un argomento molto, molto ampio e al tempo stesso semplice. Per cui cerchiamo di rispettare le persone. Cosa invece rende questa città quasi la più bella al mondo? Tu dici, vorrei dare una mano per rendere la più bella al mondo. Sì. Cosa gli manca per diventarlo e cosa è già però... Gli manca... Posso sintetizzare ai miei 200 metri di via? Un direttore artistico. Interessante. Un direttore artistico. Perché poi tanta gente, di buona volontà, mette lì idee. Oh sì. Mette lì tante cose. Ma poi si risolve tutte le volte una piacchia. Quando io ho scoperto che alle sei del mattino si fanno dei concerti sul lago del Parco Nord di Milano, avrei detto ma chi è il matto che ha presentato questa cosa? Quando ho conosciuto Lucia e ho visto questi concerti, ti ho detto ma sei semplicemente geniale, ad esempio. Che tipo di musica è? Musica classica sul lago alle sei del mattino con un pianoforte al Parco Nord. E tu dici vabbè ci sarà Lucia che è venuta in mente questa cosa e quello che suona. Piero di gente invece. Perché forse effettivamente, come dici tu, la città richiede certi tipi di atmosfere. E lì c'è un direttore artistico a pensare a una cosa del genere. Servirebbe forse un direttore artistico e dici... Ci diciamo, sto pensando, nella tua giunta ideale c'è il sindaco affiancato a un direttore artistico della città che gestisce le attività artistiche o meglio, fa proprio da direttore artistico della città come fosse un grande teatro a cielo aperto. Ne discute con... ne discute con anche chi ci abita, propone, fa anche delle... Sì, propone quello che fa, dà dei tempi, dà delle limitazioni, dà delle... Ricordo una cosa Fabio, diversi anni fa, prima che la Darsena fosse completata, ricordo che in piena estate, quando boccheggiavi anche alle 6 del mattino... Sì, perché non era novità, quello si è sempre fatto. Arrivava un sassofonista, che tra l'altro io ho immaginato, mi sembra di averlo conosciuto, un sassofonista e nel silenzio, come si può dire, emetteva qualche nota di sax, cioè da brividi. Almeno io l'ho percepito... E nessuno mai è sceso di casa a dire, eh, sta buon che è quello di un bimbo, vale qualcuno... No, no, perché erano così, a mio avviso, eh, non sto dando la... Perché forse la bellezza paga? La bellezza? Paga in un certo senso, cioè, non disturba la bellezza, la bellezza ti fa compagnia. Se veramente bellezza, se veramente, per la qualità del suono, per la durata, non durava più di 5 minuti. Dice, se fosse venuto giù, invece, tutta la banda d'affori a farci due ore di concerto, magari invece... Sì, oppure se il sasso continuava, tipo, dalle 4 alle 7 del mattino, non... A fare il reggaeton, magari... No, bisogna avere... C'è una bilancia che non funziona più. O pende tutto da una parte, o pende tutto dall'altra. Quindi, chi dice, parla come me, ma magari viene tricatato come un talebano. Ma non è vero, ma non è vero. Bisogna ascoltare la gente. Un direttore artistico trova il modo di coinvolgere tutta la fascia di quartiere, presenta... Noi, adesso, fra qualche giorno, venerdì, c'è, in Viale Gorizia, la fiera dei Navigli, l'ex festa dei Navigli. Noi aspettavamo la festa dei Navigli come la manna dal cielo, che finiva a mezzanotte con i fuochi d'artificio. Fino a quel 1193, dove un fuoco mal controllato, diciamo, mal sparato, finì in una mansarda che prese completamente fuoco. Fortunatamente il proprietario non c'era, altrimenti era arrosto. E da allora non venne più fatta. Scemò, col passare degli anni, in fiera. Ti chiedo una cosa, proprio su questa cosa che hai detto. Appunto, c'erano i fuochi d'artificio, succede un incidente, come tanti potrebbero succedere... No, così però ti metto le parole in bocca, voglio sapere veramente cosa ne pensi tu. Allora, c'è la fiera, succede un incidente, dall'anno dopo basta, non si fa più quel tipo di fiera. Ci spostiamo a Torino, Piazza San Carlo, grande disastro di Piazza San Carlo, una roba inarrabile, vittime. Quindi c'è veramente una cosa che non deve più ripetersi, non si fanno più le feste per non ripetere quella cosa lì. Non c'è qualcosa che non va però, nel senso, cioè, io capisco che il pericolo, il cercare la sicurezza, però non fare le cose perché non si riesce a garantire la sicurezza, c'è un problema lì, secondo me. Noi ci stiamo togliendo delle opportunità perché potrebbe succedere qualcosa. E la festa, quella festa lì di cui stiamo parlando, quella di Torino, col maxischermo, è degenerata. Però da quel momento basta, se vuoi fare una cosa simile, apriti il cielo, devi avere il permesso della NASA, degli ingegneri capi, del CERN. Non è neanche più facile fare però. E a Milano, ad esempio, sto pensando, le feste di via. Io non ne vedo più dopo non so quanti anni. Come era proprio la... Anche prima del Covid, sto pensando. Sì, la festa, lasciamolo proprio un consiglio. Non penso di quei due anni di... No, no, non è quello. Perché si è più difficile farle queste cose. Facevano. Perché devi avere l'ambulanza, devi avere i pompieri, devi avere i vigili, devi chiudere qui, devi trascendere là, devi attenzione qua, per gli impianti elettrici, le cose. Cioè non si è esagerato un po'. Si è passati da uno strimo all'altro. Ah. Praticamente. Si è passati da uno strimo all'altro. Comunque denoto che manca sempre un responsabile. Uno che dice io mi prendo tutta la responsabilità di quello che faccio, di quello che organizzo, di quello che succederà, qualcuno ci deve essere. Per cui torniamo al discorso iniziale. Non c'è più un equilibrio. Si è squilibrato tutto. Quando riusciremo magari a ritrovare un equilibrio e come? Altra domanda. Ci sono i centomila euro, se l'altro giusto. Eh, quando, quando. Capisci che questa domanda io non la faccio a un politico, non la faccio a un ingegnere, non la faccio a un scienziato, la faccio a un artista. Perché voi le domande, o meglio, le risposte le avete prima delle domande, secondo me. C'è un domandasi leciso, rispondersi e cortesia. Ce l'ho anche dentro da... Forse rispondersi è artistico, non so come dire. Forse rispondersi è artistico. Però sono partito con un rispondere, dopo lo cerchiamo, rispondersi e cortesia. Mi vengo a dire, è una bella domanda. Quando non lo so. Io personalmente... Come? Sono il direttore artistico del mio murale, tornando a... E quindi, ad esempio, c'erano delle persone, ho capito rarissimamente, che volevo mettere i nomi per attacchere a un giornalista con nome e cognome, o un politico. E io ho fatto una piccola azione di censura, diciamo, dicendogli gioca sempre sull'ironia, gioca di parole, ma non usare mai il nome e il cognome di questa persona. Ho sbagliato? Ho fatto bene? So che si sono convinti e l'hanno fatto. E alla fine hanno detto, ma no, è anche più bello così. È anche più bello così, perché chi legge pensa a Tizio, a Caio Sempronio, ambossessi ovviamente. Chiaro, chiaro. E così... Dimmi un po', questo direttore artistico a cui tu pensi. Se domani in sala ti chiama e ti dice, va bene, facciamolo, dai. Io sono pronto. Tu sei pronto oppure hai idea di chi potrebbe farlo? Io. Sono Carlo Ceccaro? Io. Quindi ci auto... Posso, mi auto... Qua è la telecamera, poi il video direttamente. Mi auto propongo per fare il direttore artistico della Darsena, Via L'Egorizia, anche Gabriele D'Annunzio. Da me prendi anche i due navigli a sto punto, dai. Anche i due navigli? A sto punto. Non è che possiamo fare... Non servirebbe quindi un direttore più generale, ma tanti piccoli direttori localizzati? Sono sincero, sì. Io penso che... Perché dovrebbero appartenere anche alla zona, che sanno qualcosa. Cioè io se sento che c'è un malanimo in piazzale Loreto, per dire una... Non vado e la dico, guardo cinque minuti, so tutto io. Come fanno molti. Anche pagati. Come fanno molti. Prendi qualcuno che conosce la zona. Se vai... C'è tanta leggenda che ne sa. Ci sono tanti cittadini che potrebbero... Non so se sono il primo, il secondo, il terzo, il centesimo. Io mi offro. Allora, cosa si fa? Cerca di fare un accordata di direttori artistici per tante zone di Milano, poi andate a Palazzo Marino e proponete a questo punto. Sì, forse ho 61 anni, forse arrivo a 70 e ho completato... Vabbè, ma ormai si campa fino a 100 senza problemi, quindi ormai... 120. Infatti ormai... Dici dell'idea del direttore artistico? Il direttore artistico secondo me è geniale. Veramente... Farebbe fare un salto di qualità alla città di Milano, credo. Vero? Sì, sì, sì. Non è per fare gare, ma non mi risulta che... Non lo so, non lo so. Sarebbe da cercare. Sarebbe da cercare e indagare su questa cosa. Che dire Carlo? Io non posso essere contento, quindi, del tuo ritorno qui su Milano News. Ah, non posso essere contento. Non posso che essere contento. Non posso che essere contento del tuo ritorno qui su Milano News e spero di rivederti presto. Hai sempre dei benchiari sulla nostra città. Quindi questa cosa ti rende uno di quei milanesi interessanti da ascoltare e interessanti da raccontare. Grazie. Io ricambio con tanto affetto perché mi ha fatto veramente molto piacere. Mi mancava tornare qui. Il percorso che ho fatto volutamente in metropolitana, perché l'auto lo uso pochissimo ormai, per vari motivi. Allora mi è piaciuto, mi è piaciuto rivedere le vie. Bene, bene, bene. Allora sai come si dice in questi casi? Mi casa e stu casa. E quindi Carlo, quando vuoi, questo studio è aperto per riaccoglierti quando vuoi. Molte grazie. Grazie mille a Carlo Ceccaro, cercatelo su internet, cercatelo su Google, cercatelo su Facebook. Carlo Ceccaro, cartellomania, c'è tutto quello che volete. Posso aggiungere, cercatemi anche, se avete un po' di tempo, via Tortona, la zero. Ecco, voglio dire appunto, più che andare a cercarlo online, cercatelo dal vivo, perché tu tutti i giorni praticamente, oggi no perché sei qua. Quando posso, metterologia, oggi no. Quando vuoi, fatevi un giro, via Tortona, zero, perché iniziano, prima dell'uno, ho detto dovrò farmi, fabbricarmi un tridimensionale, un bel zero da applicare al... Quando era la casa dei Matti, quella numero zero. Esatto, quella di, era bella, bella davvero, via dei Matti, numero zero. Perché poi c'è l'uno, c'è, non faccio il nome, posso fare il nome di un locale. Ma sì, sì, sì. C'è, c'è, ci sono tre località commerciali, c'è Seria del Binari, a sinistra, dove inizia l'uno, a destra il Kairos Cafè e il Basara. Quindi potete anche offrirgli un caffè a Carlo, che insomma è sempre ben accetto, visto che sta lì tutto il giorno, magari gli offrite anche un caffè. Grazie. Grazie mille a Carlo Cecco. Grazie, grazie. Grazie anche a voi, ci sentiamo e ci rivediamo prestissimo in un'altra puntata di miei carissimi milanesi. A presto. Grazie. Grazie.